salve a tutti i ragazzi sono tutti il popolo di sport oggi video avviso annuncio video spiegazione video non lo so come al solito potete vedere sono in uno dei miei tanti video pronto consumo e parleremo proprio della programmazione di youtube questo video uscirà tra qualche settimana e vorrei spiegare perché sto attuando una programmazione così lunga io fra qualche giorno partirò per la germania e appunto dove andrò a cercare lavoro più di qualche video l'ho detto cercherò lavoro e starò lì di conseguenza poter registrare e editare i video step by step come ho fatto fino adesso nonostante il buco che è passato dall'ultimo video cioè dal penultimo cioè quello di agosto all'ultimo che ho caricato che sarà stato intorno a novembre mi sembra dove dico insomma dove do delle spiegazioni ecco ho visto che comunque questa questo buco questi vuoti di programmazione non andavano bene anche perché il canale voi lo sapete io lo uso più che altro per registrare per scherzare per divertirmi cerco di informare e certamente ok punto un pochettino non a lavorarci però ci vorrei stare dietro a youtube come si dovrebbe fare effettivamente però so che non è una fonte di guadagno che perché non guadagno nulla dei video e appunto lo uso più che altro per per sfogarmi per per rilassarmi allora visto che questo buco non poteva essere per più mesi per ancora per altri mesi ho deciso di registrare tanti video e poi suddividermeli nelle settimane nelle settimane che appunto verranno verranno caricati voi ormai già li state vedendo perché da da gennaio in poi inizierà la programmazione normale quindi tante tante novità sono state caricate tante novità verranno caricate dove metto diciamo anche un po a nudo tra virgolette quello che è la professione tutto quanto e quindi ecco sto facendo questo tipo di programmazione così a lungo termine sono circa 82 video dove si parla si parla di 82 argomenti quindi sono c'è dietro un bel po di lavoro e per questo ragazzi fondamentalmente perché non so poi che tipo di se potrò in qualche modo starci dietro sicuramente perché io in più di qualche altro video ho detto che cambierò telefono e registrerò quindi risponderò alle vostre ai vostri commenti giustamente perché youtube posso comprare anche dalla dall'app del telefonino avrò la connessione internet quindi ci potrò lavorare però l'editing grosso ecco il grosso dei video dove si parla di tagliare montare quant'altro lo sto facendo fare a davide ormai l'avete capito il mio editor di fiducia ed è quello che mi mi edita il video ha le credenziali fondamentalmente del canale gli estremi e lui manda tutto quanto la semplicemente questo ragazzi ecco perché sto attuando un tipo di programmazione così così lunga ok ci sono tanti video spiegazioni forse riempitivo non lo so forse lo metterò attaccato a un altro video di base questi qua escono sporadici c'è non escono con una cadenza settimanale precisa quindi niente ragazzi solo questo ok ma la mia stanza mi sono appena svegliato fondamentalmente è pomeriggio lo so ma mi sono appena svegliato è un periodo che sto passando il letargo stai dicendo questo buon allenamento da insport ragazzi mi raccomando ciao ciao